L'assurda gravità è la terra che si stira. Gli oceani che sono letteralmente fluidi in Roel Chia possono essere tirati verso la luna e questo è quello che crea le maree. L'acqua degli oceani può essere tirata verso la luna ma nient'altro, ad esempio un aereo, un pallone meteorologico, l'atmosfera, l'acqua dei laghi o anche la ISS. La luna si trova qui ed accederà gli oceani sulla sommità della terra e crea l'altra marea qui sopra. Sotto c'è un'altra marea che viene creata perché la terra stessa è tirata verso la luna, anche se gli oceani qui sotto hanno meno attrazione gravitazionale esercitata su di essi, essendo più lontani dalla luna. Sia sopra che sotto abbiamo l'alta marea perché le maree si rigonfiano, mentre ai lati che sono ad angolo retto rispetto alla luna abbiamo la bassa marea. Gli oceani si estendono sulle superfici della terra. Abbastanza pazzesco, eh? Pazzesco e dal 100% una cazzata. Va sommata l'assurdità della terra che si stira alla presunta rotazione giornaliera, allo sfrecciare, ai movimenti vorticosi della terra che non si riescono né a misurare né a percepire. Abbastanza pazzesco, eh? Grazie. 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 Grazie.